L'Ulse 2 sta quantificando i danni da chiedere all'ex assistente sociale Emanuela Petrillo, la 38enne di Spresiano, licenziata dall'azienda sanitaria per le finte vaccinazioni. La donna è accusata di peculato, omissioni dati d'ufficio e falsità in dichiarazioni per non aver somministrato tra il 2009 e il 2016, durante il periodo in cui era in servizio alla ASL di Codroico e Treviso, vaccini a circa 8.000 pazienti, in stragrande maggioranza bambini. Già condannata dalla Corte d'Appello a risarcire 550.000 euro all'azienda sanitaria universitaria di Udine, sentenza che avrà validità al termine del processo penale. Vista anche poi come si è mosso il Friuli, credo che anche noi andremo a fare la medesima cosa. D'altronde le vaccinazioni non fatte, quindi il costo delle vaccinazioni, il costo del tempo assistente sanitaria e il costo del tempo medico vanno ovviamente valutate e quindi poi ci sarà verso la signora, verso l'assistente sanitaria, una richiesta di risarcimento. Sulla quantificazione del danno, Benazzi spiega che si sta valutando. Guardi, non l'abbiamo fatto a dire la verità, immagino intorno ai 100-150.000 euro, questa sia un po' la cifra, tenendo conto che da noi per fortuna ha lavorato meno rispetto al Friuli. Grazie.